Buonissimi di questo pomeriggio casalese, Auricchio e Maglione. Auricchio ha segnato il primo gol, Maglione il secondo. Giusto un saluto ai tifosi del Casoria da parte di Auricchio che è arrivato a 11 reti stagionali. Sì, ringrazio tutti i miei compagni di squadra perché grazie a loro se riesco a fare gol, li ringrazio perché mi mettono sempre nelle condizioni di fare bene, è tutto a merito loro. E poi ringrazio questi tifosi stupendi che ci seguono ovunque e ci danno la forza per andare avanti. Michele, tu hai fatto un gol straordinario, veramente l'hai fatto uscire proprio dal cilindro quel gol, un gol importantissimo perché ha regalato tre punti al Casoria su un campo difficilissimo. Cosa ci vuoi dire? Niente, grandissima vittoria. Ringrazio tutti i miei compagni della battaglia che abbiamo fatto e ringrazio i tifosi che ci vengono sempre a sostenere.